Buongiorno e buon martedì. Adesso vi faccio vedere lo svuotaspesa, forse un poco polemico. Allora, perché molte persone mi stanno scrivendo che non è vero che io pago così poco al mercato, ma io ho specificato che nonostante io sia milanese, vivo da 40 anni al sud e al sud i prezzi sono più bassi rispetto a quelli del nord, perché purtroppo al sud i prezzi sono equiparati agli stipendi, basso è lo stipendio, bassi sono i prezzi. La mia non è una, non voglio fare una polemica, per carità di Dio, però volevo specificare questo. Comunque questa settimana ho speso 26 euro, adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato. Ora vi stavo dicendo che ho speso 26 euro, adesso vi faccio vedere. Allora ho preso due chili di patate, ecco qua, poi ho preso mezzo chilo di questi funghi, aspettate, ecco qua, le cardarelle, poi ho preso delle carote, ho preso questi broccoloni, che io non so mai come si chiamano, vabbè, due melanzane perché farò una parmigiana light, poi ho preso questo broccoletto romano piccolino, poi che ho preso, ah, un chilo di cipolle di montoro, questo è qua, poi mi è stato regalato un poco di sedano, ho comprato mezzo chilo di questi pomodorini, adesso vi faccio vedere, mezzo chilo di questi pomodori, poi ho comprato mezza verza, perché intera era troppo grande, ah, la rucola fresca, poi tre chili e mezzo tra mandarini, no mandarini, clementine e i loti, se riesco a trovare, eccolo qua, e i loti, poi un chilo e mezzo di cime di rapa, broccoli e il prezzemolo mi è stato regalato. Allora, quindi cime di rapa, loti, cachi e clementine, la verza, la rucola, il broccolo romano, due melanzane, questi broccoli qua che non so come si chiamano, i pomodori, le cipolle, le patate, i funghi e le carote, 26 euro. Grazie.